Allora, qual è l'idea che sta dietro questa chiacchierata? Non mi alzo perché devo manovrare parecchie cose qua, sperando di riuscire a controllare il sistema. L'idea è provare a capire come l'informatica personale e il fatto che le macchine di calcolo sono diventate, in qualche modo, permuono il nostro mondo in maniera così naturale, non è affatto una cosa naturale. Quando io ero ragazzo e andavo a scuola, sapete che ogni generazione ha il suo mondo perfetto, che corrisponde tipicamente al periodo intorno ai 20 anni. I miei 20 anni si completavano alla fine degli anni 70, che per puro caso è esattamente il periodo quando è nata l'informatica personale. Quindi coincidono queste due cose, il mondo perfetto è quello in cui è nata l'informatica personale. Quando io ero ragazzo, anche una semplice calcolatrice, ma una calcolatrice è quella che faceva le quattro operazioni, era un oggetto straordinario. Tant'è vero che a scuola il professore di applicazioni tecniche ci aveva insegnato a usare il regolo calcolatore, che è un oggetto mitico che oggi nessuno sa, di cui nessuno conosce più l'esistenza. Che è un oggetto fantastico che permette, muovendo dei righelli che hanno scala logaritmica, di fare le moltiplicazioni facendo delle addizioni. In realtà, perché in scala logaritmica c'è il rapporto della trasformata logaritmo che fa questo, trasforma moltiplicazioni in addizioni. Quindi era l'epoca del regolo calcolatore. E quando io ero alla scuola superiore cominciano a circolare le prime calcolatrici. Oggetti costosissimi, che non facevano quasi nulla, diciamo. E quindi, quando nella seconda metà degli anni 70 si comincia a parlare di personal computer, la cosa sembrava strabiliante. Perché come computer? Fino all'altro ieri non c'erano nemmeno le calcolatrici, ora parliamo di computer. E questa cosa era estremamente affascinante e ha cambiato nel tempo il modo con cui noi abbiamo affrontato il nostro lavoro anche. Quando io ero giovane ricercatore, le presentazioni di questo tipo si facevano facendo i disegnini sui lucidi. Chi se li ricorda? Con i pennarelli. Se non eri mezzo artista non potevi presentare niente. Lo dovevi fare tutto a mano. Io ho ancora pile di lucidi nei miei armadi conservati, ma anche perché si conservano benissimo. A un certo punto c'è stata una grandissima invenzione, cioè i lucidi si potevano stampare nella fotocopiatrice. Questa è stata una cosa avanzatissima, cioè, capite, non li dovevo fare uno a uno. Dopo che ne avevo fatto uno, oppure avevo un foglio, potevo stamparlo con la fotocopiatrice. Questa è stata una cosa... Poi sono arrivati addirittura le stampanti che stampavano sul foglio traslugido. E lì ci siamo sentiti, no? Capaci di fare qualsiasi cosa. Cioè, oggi tutta questa roba sembra ultra primitiva, no? Poi sono venute le diapositive che finalmente avevano un costo accessibile. Quindi non c'erano più i lucidi grandi, facevamo le diapositive. È per questo che le continuiamo a chiamare diapositive. Ma le diapositive erano già una cosa avanzatissima rispetto... Tutto questo è successo in pochissimo tempo. Cioè, no? Io lavoro da 35 anni. Cioè, in 35 anni siamo passati dai fogli scritti a mano, dalle figure per scrivere un articolo scientifico fatte col righello, alle cose che facciamo oggi che sono straordinarie. Quindi io vorrei vedere come è successa questa cosa facendo, andando a vedere dei piccoli esempi, diciamo. E soprattutto per quanto riguarda la capacità di calcolo. Perché, insomma, non ci rendiamo bene conto di questo, ma ogni cellulare che noi abbiamo in tasca, forse anche quello di 150 euro, ha una potenza di calcolo che equivale al totale della potenza di calcolo di tutta l'umanità fino agli anni 90. Cioè, l'umanità, tutta, nella storia, ha avuto la capacità di calcolo del vostro cellulare fino agli anni 90. Ok? Se invece pigliamo un personal computer, è arrivato oltre il 2000, praticamente, come capacità. Cioè, un oggetto come il Raspberry Pi, di cui parlerò un attimo, è un oggetto che ha una potenza di calcolo equivalente a un super computer della fine degli anni 80. A un super computer. Per noi, cos'è quello a fare? Cioè, è una cosa didattica, diciamo, no? Per imparare. È quello che era l'equivalente di un super computer. Quindi questo è quello che è successo. È successo che siamo passati da un mondo senza quasi capacità di calcolo, capacità di calcolo che, peraltro, sta nelle mani di pochissimi, a un mondo in cui tutti hanno una capacità di calcolo straordinaria, anche se la usano solo per fare WhatsApp o TikTok. Ok? Perché ci vuole tanta capacità di calcolo per fare TikTok, eh? Che ce ne vuole poca. Ok? Allora, quindi questa è l'idea. E vediamo come cominciamo. Diciamo, l'idea, se riesco, è fare questo. Farvi vedere i primi computer che facevano i calcoli, i primi programmi di calcolo, il primo programma, cioè il programma, che ha determinato l'esistenza del computer, ovvero la diffusione del computer, è il visi-calc. Perché all'inizio i computer non avevano capacità neanche di fare i word processor. Che word processor volete fare se il vostro computer ha 30k di memoria? 30k vuol dire 30 kilobyte, che erano già quelli buoni, no? E cosa volete farci? Cioè 30k equivalgono a 30.000 parole. 30.000 caratteri, scusate. 30.000 caratteri. Ci dovete mettere il programma che ve li tratta pure? Cioè con 20.000 caratteri cosa ci fate? Un po' di cartelle, diciamo, no? Quindi il vero programma che ha determinato la diffusione del personal computer sono i programmi di calcolo accessibili a tutti e sono i fogli elettronici. E il primo foglio elettronico è il visi-calc che girava su tutti i primi computer. Quindi vediamo un po' come era fatto un foglio elettronico. Quando i computer hanno cominciato a diventare più potenti è cominciata ad entrare una matematica diversa, addirittura la matematica simbolica. E questo è il fatto che il calcolatore non facesse solo le moltiplicazioni e divisioni, ma addirittura calcolasse le derivate o gli integrali in forma simbolica. Veramente quando è arrivata sembrava altro che chat GPT. Cioè oggi siamo colpiti da chat GPT, ma la prima volta che ho visto un calcolatore che calcolava in maniera simbolica ho avuto uno shock culturale, diciamo. E c'erano diversi sistemi operativi che permettono di fare quello. In quel periodo, peraltro, si sviluppava tutta questa nuova geometria di cui la parte più conosciuta è anche quella dei frattali. E così vediamo anche un pochino come queste macchine ci hanno aiutato a fare. Perché senza queste macchine quel tipo di geometria non si sarebbe sviluppata. Quindi c'era bisogno di questa capacità di calcolo per introdurre queste cose che oggi ci permettono di parlare di caos, di dinamica non lineare, ci permettono di fare cose straordinarie come chat GPT, per esempio, come i sistemi linguistici ci permettono di prevedere il futuro in limiti piuttosto ampi. Perché un tempo, per esempio, sapere che tempo ci sarebbe stato fra dieci giorni è una cosa assolutamente impossibile. Oggi la probabilità di saperlo è piuttosto alta. Non è la certezza, ma è piuttosto alta. E questo vi dice la nostra capacità di previsione. E c'è gente che è capace di prevedere i risultati delle elezioni, senza farle. Che è capace di prevedere gli andamenti economici, i cambiamenti sociali. Si può prevedere quasi tutto se riesce a parametrizzarlo bene, diciamo. E c'è gente che lo sa fare. Tant'è vero che la Bocconi, dove le buone famiglie mandano ai bravi figli, c'è un dipartimento che si chiama Dipartimento delle Previsioni. La coscienza delle previsioni. E questo vi dice a cosa siamo arrivati come capacità di calcolo e di elaborazione. Allora, cominciamo. Il primo computer è questo che vi volevo far vedere. È il Commodore PET. Si presentava bene, aveva questa forma tipo Star Wars. Anche oggi questa forma è carina, è un po' un'icona di computer, più che un computer. Era il più bello dei computer di quell'epoca. A quell'epoca c'erano sostanzialmente tre computer per diffusi, conosciuti. C'era il TRS-80, che era un televisore con una tastiera sotto, che era però, dal punto di vista operativo, molto buono. Poi c'era l'Apple 2, che era la prima versione della Apple computer a larga diffusione. E poi c'era questo, che in effetti era quello più di successo. Uno, perché aveva questa bella foto. Due, perché le prime applicazioni più interessanti sono state sviluppate proprio su queste macchine. Poi queste macchine avevano delle caratteristiche molto interessanti. Per esempio, l'editor era tutto schermo. Questa è la fantastica. Cioè, anche l'editor dell'Apple 2 era riga per riga. E qui, questo aveva un editor a tutto schermo. E questo già era una cosa per l'epoca fantastica. Ma poi, questa macchina è ancora utilizzabile oggi. Se io la voglio usare come controllo, lo posso fare. perché è un'interfaccia HPB o IE488, come si chiama, che è un sistema di handshake che si usa anche oggi nell'industria. Quindi potete comprare un bel multimetro che si collega a questo oggetto e questo lo controllerà. E tanto è vero che questi oggetti hanno collegati scheda SD, oggi, qualunque cosa. Perché tanto il sistema di handshake è che dammi una cosa e quello gliela dà. Ok? Cioè si parlano, si stringono la mano. E questi computer non erano fatti così. Quindi questi erano computer veramente pensati bene anche. Allora, il PET. La prima versione era così con questa tastiera ridicola. Il registratore a cassette che era la memoria di massa dell'epoca per cui se volevate caricare un gioco potevate andare a fare il caffè nel frattempo che si caricava questo oggetto non aveva grafica e la prima versione aveva 4k di memoria cioè 4 kilobyte. Qualunque forno a microonde oggi ne ha 50 volte di più diciamo di memoria dentro. Perché ormai i forni a microonde ti danno le ricette cioè sono un'altra cosa. Questo aveva 4 kilobyte di ramo e vi assicuro che per l'epoca non erano pochi e si potevano già fare tante cose perché era programmabile in basic. Il sistema operativo era il basic cioè il linguaggio stesso serviva da sistema operativo. In che senso? Nel senso che permetteva di registrare dei dati sul nastro di leggerli il nastro è di tipo analogico normale musicassetta niente di speciale ok quindi c'era una modulazione però vi dico le videocassette le musicassette che io ho registrato 30 anni fa ancora si leggono non possiamo dire la stessa cosa per i floppy disk e altre cose cioè quelle cassette così primitive ancora oggi si leggono io le metto sono le stesse e si leggono quindi voglio dire erano dei sistemi primitivi ma relativamente affidabili allora vediamo un attimo questo oggetto ecco questo è lo schermo di un pet di questo oggetto qui questo è un emulatore che gira sotto sul Macintosh sul 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 Macbook io ho già caricato un disco vediamo se è vero questo sì ho caricato un disco e ora carico un programma vedete che posso muovere il cursore sullo schermo dovunque e viene accettato il comando che però sta solo su una riga ecco il coso è stato caricato e ora ho lasciato i programmi alla velocità originale quindi ci mettono un pochino per fare le cose l'ho fatto apposta perché ovviamente possono andare molto più veloci ma l'idea era di ritrovare quell'atmosfera di di quel periodo quindi ora cosa sta facendo il il loader sta caricando il programma giusto per fare girare speriamo il visi calca sul sul pet se non si impalla ecco qua è andato ma un po' di pazienza ho detto che questi pochi secondi sembravano un'eternità perché noi siamo abituati a sistemi no sul cellulare che se fai così e non ti scorrono 35 pagine in un microsecondo vuol dire che il cellulare fa schifo no ecco questa era la velocità con cui funzionavano questi dissi vi assicuro poiché questo sta emulando un disco la lettura di un disco che questo era velocissimo perché se l'avessimo fatto con la con la cassetta saremmo potuti andare a farci il tè mangiare i biscotti poi tornare e avremmo trovato finalmente se il computer aveva voglia il programma a un certo punto che girava ecco questo è il il nostro il nostro sistema vedete che non ci sono frecce non c'è mouse non c'è niente si usava con le con i comandi a tastiera vedete ora ho premuto il tasto che mi dà i comandi ed è uscita una lista di lettere ognuna di queste lettere corrisponde a tutta una serie di operazioni per esempio potrei caricare un file solo che non mi ricordo il nome del file quindi vediamo se per caso si chiama prova come faccio io normalmente manco per idea allora vi faccio vedere invece come funziona la cosa allora se io metto un numero qui questo numero viene memorizzato nella casellina d'accordo? lo sapete che funzionano così così poi ne metto un altro numero qui e viene memorizzato lì e poi se ora scrivo una formula per esempio b2 per b3 che è esattamente il modo con cui funziona excel viene fatto il calcolo per cui se ora io vado a cambiare questa cosa e ci metto 34.2 lui mi fa il calcoletto ok? questa cosa era straordinaria cioè tu potevi indirizzare le singole caselle mettevi dei numeri che si ricordavano potevi salvare il file e tu avevi un programma che ti faceva queste cose e guardate il foglio di calcolo che potevi caricare su un pet non era molto più grande di quello che si vede in questo schermo veramente non era molto più grande stiamo parlando di cose non lo so 20 righe per 40 colonne qualcosa del genere dopodiché si esauriva la memoria e tanti saluti peraltro il pet aveva un'implementazione del visicalc pessima perché i programmatori di visicalc non avevano voluto usare le routine di ingresso-uscita del pet e le avevano riscritte da zero risultato la massima memoria RAM che aveva questo computer era 32k 27 se li prendeva il programma e per i dati ti restavano 4-5k per cui era veramente pessima e questo è stato uno dei motivi per cui l'Apple 2 ha superato questo oggetto che l'Apple 2 invece aveva un'implementazione del visicalc che dava molta più memoria più di 16k e questo permetteva di fare fogli più grandi a livello professionale era importante se l'implementazione del visicalc fosse stata differente su questa macchina forse la storia dell'informatica sarebbe stata differente il TRS80 non partecipava veramente a questa cosa non perché non fosse buono era un'ottima macchina dal punto di vista software soprattutto ma lavorava con uno schermo di televisore e questo alla fine non andava bene ci volevano dei monitor per lavorare e questo alla fine ne ha decretato in qualche modo hanno conservato quell'archiclettura per troppo tempo e quindi i concorrenti hanno eroso la loro capacità nonostante il TRS80 fossero veramente delle macchine fantastiche beh questo per parlare di questa macchina che è una macchina questa qui che veramente è il primo vero computer personale nel pieno senso della parola vi ripeto la memoria in cui avevamo venduto la prima versione era 4k cioè 4000 caratteri 4000 byte e quella più avanzata era 32k 32k ok stiamo parlando di cose che oggi cioè se vai a comprare una memoria oggi la misurì no? in gigabyte la misurì come la misurì una ram in quantomeno decine di megabyte no? anche se la devi usare ora ci sono i microprocessori che costano 50 centesimi e dentro c'hanno già la ram voglio dire questo è ok? allora andiamo avanti torniamo alla nostra presentazione e andiamo avanti ecco questo sono due schermi come quello che vi ho fatto vedere questi sono esempi di calcolo cioè uno poteva il punto integrativo vuol dire print stampa quindi se io mettevo print e poi mettevo le formule potevo usarla come una calcolatrice questo oggetto ok? che non era male e poi c'è il visicalc che ti permetteva di fare per esempio la lista della spesa ovviamente già questo era una cosa avanzata perché perché le calcolatrici all'epoca non erano capaci di fare queste cose e e questo ovviamente era una cosa straordinaria i calcoli sono una cosa importante perché all'epoca i computer i mainframe avevano due tipi di precisione la singola e la doppia precisione la singola precisione si faceva con 4 byte quindi con 32 bit 4 per 8 32 bit la doppia precisione si faceva con il doppio con 8 byte quando voi avete una macchina che ha 4k non ve la potete permettere la doppia precisione peraltro questa è una macchina 8 bit quindi a fare i calcoli poi sarebbe stato impossibile e lì la furbata è stata di Microsoft perché tutti questi basic li ha fatti Microsoft ha introdotto un nuovo tipo di numeri che era fatto con 5 byte 5 byte sono solo un byte in più di 4 ma ti permettono quella precisione che permette di arrivare a 7 cifre e mezzo di precisione quasi 8 e questo vuol dire che puoi fare i calcoli scientifici non esagerate a fare sottrazioni tra numeri troppo differenti o rapporti strani però finché la dinamica non è esagerata ci potete fare i calcoli scientifici mentre con la singola precisione questo è discutibile diciamo ok con questo lo potete fare tutte queste macchine avevano una rappresentazione numerica 5 byte ok questi sono aspetti a volte trascurati ma invece sono estremamente importanti quindi certe scelte dell'epoca hanno fatto sì che queste macchine avessero un'utilità molto maggiore del potenziale che avrebbero dovuto esprimere se fossero semplicemente state copiate dall'equivalente professionale dell'epoca ok andiamo avanti ecco questo invece sono schermate dell'IBM PCXT il vero primo computer personale professionale che quando è uscito non era tanto professionale perché pochi si dimentichano lo sanno ma la prima versione del PC IBM del PC XT aveva 16 kilobyte di RAM e non aveva i dischi aveva il registratore a cassette e non aveva nemmeno il monitor chiaro? questa è stata non è durata molto ma questa era la prima versione dell'IBM PC 16k quindi era confrontabile a questo 16k aveva la tastiera più bella era più grande ma aveva 16k d'accordo? e aveva aveva diciamo delle periferiche confrontabili a quelle di questi computer qua però si è evoluto molto velocemente perché? perché il microprocessore interno al PC XT era un processore internamente a 16 bit all'esterno a 8 bit e quindi essendo all'interno a 16 bit permetteva di indirizzare più memoria di fare più cose poteva arrivare a un mega di memoria direttamente indirizzata un mega pensa e quindi ha permesso lo sviluppo tramite il DOS di programmi molto avanzati all'epoca si programmava molto ancora in basic ma il basic dell'IBM PC era un basic veramente molto evoluto ecco questo è per esempio un programma che disegna una parte del programma che disegna questo albero frattale d'accordo? perché vi ho fatto vedere subito questo? perché all'epoca io ho scritto insieme al mio collega polacco Piotr Pianansky un programma che disegnava frattali ma li disegnava con un approccio piuttosto avanzato che era quello delle iterated function system quindi non era un giochetto era una cosa che permetteva di generare frattali di tutti i tipi addirittura animazioni frattali e cose pazzesche e ora vi faccio vedere come funzionava ovviamente questo programma era molto evoluto e girava ed era scritto in Turbo Pascal il Turbo Pascal era un linguaggio fantastico velocissimo che compilava in tempo reale e onestamente io sono c'ho nostalgia di quel linguaggio veramente bellissimo molto efficiente ovviamente aveva un difetto cioè poiché i computer erano molto limitati non è come oggi che tu prendi Python e hai un miliardo di librerie che fanno qualsiasi cosa all'epoca le librerie erano quelle che ti permettevano di disegnare un punto sullo schermo un cerchio che ti facevano le linee che ti permettevano di fare un po' di calcoli matematici un poco più avanzati invece di ricavare le funzioni trigonometriche inverse dall'arcoseno per forza altrimenti non c'erano altre funzioni no? e quindi sostanzialmente questo era un oggetto ormai abbastanza evoluto questi computer avevano 640k di memoria ok? e quindi permettevano di fare cose notevoli allora cosa permettevano di fare? vediamolo subito questo è un emulatore di DOS vediamo se riesco a farlo un po' più grande ecco qui ecco questo è lo schermo questo è lo schermo di un PC XT all'epoca del DOS vedete che non c'è non c'è nessuna cosa grafica dovete fare tutto a mano se volete vedere i file che stanno in una directory dovete ricordarvi degli strani comandi esoterici ok? io ho una buona memoria me li ricordo pure quelli del pet mi ricordo quindi per fortuna è il mio controllo controllo se l'Alzheimer avanza diciamo finché riesco a ricordarmi tutte queste cose sto abbastanza tranquillo allora vediamo un po' questo programma per esempio che dovrebbe stare dovrebbe stare sì qui dentro ecco qui ecco questo è il fractal object editor che è un programma vediamo se vorrei che averlo fatto così grande mi crea problemi di gestione ecco qua c'era pure la spiegazione ecco questo è il nostro programma questo è un programma gestito a finestre ovviamente le finestre me le sono inventate tutte io perché non c'erano i cosi quindi se io voglio caricare un file faccio così i miei file sono rappresentati graficamente questa è la velocità originale dell'M24 dell'Olivetti quindi funzionava veramente bene e qui io posso scegliere il mio frattale che viene riprodotto ok posso fare delle cose fantastiche posso scegliere per esempio una delle trasformazioni della iterata function system posso per esempio ruotarla e cambiare in tempo reale il frattale ok e giocando sulle matrici che rappresentano questi oggetti se io piglio due di questi oggetti che sono rappresentati da particolari matrici io posso ve lo faccio vedere un attimo posso interpolare con qualunque regola una matrice per andare nell'altra e quindi creare tutte le figure intermedie tra due frattali e quindi puoi fare un'animazione ok quindi sono delle cose notevoli per l'epoca veramente notevoli allora vediamo un attimo se c'ho c'erano anche le sottodirettori qua solo che io con questo schermo così grande non riesco più a vederle allora scusate lo devo fare un po' più piccolo vedete c'erano le subdirettori di e qua ci dovrebbero essere delle figure che non mi ricordo più dove sono forse erano qua direttamente che permettevano vabbè non mi ricordo più in che directory stanno comunque si potevano fare cose di questo tipo vediamo se riesco a farvi vedere un'animazione ovviamente qui c'erano dei comandi fantastici si poteva lavorare solo con i numeri interi per andare ancora più veloce si potevano colorare le varie rappresentazioni quindi potevate vedere le varie funzioni quale parte del disegno generavano e cose di questo genere è un oggetto veramente molto molto sofisticato ok usciamo qui ho un programma bello che è un programma invece commerciale che è Chaos e Chaos era un programma di quell'epoca che permetteva di fare cose di questo tipo cioè di disegnare i frattali famosi dell'epoca tipo l'insieme di Mandelbrot oppure quelli per esempio di Giulia ecco qua questi erano famosissimi sono ancora famosissimi frattali e vedete che il calcolo non è è abbastanza veloce ce ne sono anche di altro tipo e questo è un programma considerato professionale per studiare proprio la geometria frattale vedete che a causa le figure che vengono calcolate vengono poi memorizzate qui accanto però la realtà è che non viene memorizzata tutto perché non c'era abbastanza memoria quindi viene memorizzato l'accesso veloce all'algoritmo che deve ricalcolarsi di nuovo tutto era la stessa cosa che succedeva col mio programmino in cui ogni figura era rigenerata continuamente d'accordo e quindi dovevi scegliere il giusto compromesso tra risoluzione per riconoscere le cose e questo è un esempio molto carino secondo me anche di per capire all'epoca come si poteva giocare con delle funzioni avanzate che permettevano di studiare cose altrimenti non non accessibili ok usciamo da qui e torniamo alla nostra presentazione ecco qua allora cosa c'è nell'IBM PC di veramente avanzato ma poiché questi oggetti giravano diciamo a 5 MHz di clock ok mentre questi qui giravano a 1 MHz ok oggi i nostri girano se vanno piano vanno a 3 GHz ok i nostri PC normali questi giravano questo girava a 1 MHz e questo girava a 5 MHz che poi sono diventati 7 poi sono diventati 9 poi sono diventati 25 poi sono diventati 50 poi sono diventati 100 insomma però sempre velocità che rispetto a quello che abbiamo oggi erano ridicole cosa si poteva fare all'epoca si poteva per esempio usare i primi programmi per fare matematica come derive derive è un assistente di calcolo molto carino che permette di fare cose di questo tipo per esempio di calcolare simbolicamente la somma di sen quadro più cosen quadro e vi dice che è uguale a 1 ok o di fare la derivata del sen quadro che è 2 sen x cosen x o di disegnare la funzione divisa a finestre cioè permette di fare cose fantastiche anche questo senza nessun mouse praticamente tutto a manina ok con dei menu di questo tipo comandi che venivano comandati con la prima lettera quindi io facevo d cancellavo il file hlelp move option eccetera eccetera ok quindi ancora siamo nel periodo pre-grafico ma con funzioni estremamente avanzate vi assicuro che The Rive anche questa versione qui sarebbe utile pure oggi cioè non è come matematica come scopriamo tra un po' però è un programma che fa veramente tantissime cose e poi era già organizzato come un ambiente cioè non dimenticava le cose che voi stavate facendo mentre i calcoli sul pet ne facevate uno finito dimenticato per sempre qui il sistema ricorda quello che voi fate c'è una storia e quindi voi potete costruire un ambiente per risolvere problemi complessi facendolo passo passo e questo era anche un avanzamento notevole permesso dai famosi 640 kilobyte di RAM che avevano questi oggetti ok dopodiché si fa un salto si fa un salto ancora più avanti e questo salto sono i computer grafici ora per noi computer grafici vuol dire Apple in realtà anche il DOS si difendereva nel DOS si poteva montare Windows 3.0 2.0 3.1 era sempre il DOS diciamo alla base però l'interfaccia grafica permetteva di fare delle cose già abbastanza carine avanzate come le prime navigazioni su internet ok cosa che con un sistema puramente testuale non è che viene proprio si può fare ma non viene proprio bene no ora l'Apple qua siamo già un sistema abbastanza avanzato siamo al livello dei Mac 2 ok ti dava un bello schermo ad alta risoluzione non vi fate impressionare questo è 1024x768 oggi con 1024x768 punti non ci fate proprio niente diciamo all'epoca era considerato una risoluzione spaventosa ok poi aveva 65.000 colori non ti dico pure questo poi questi oggetti in teoria potevano arrivare già dalla nascita perché avevano processori come il 68.040 a 1 gigabyte di RAM ovviamente non ce l'aveva nessuno 1 gigabyte di RAM anzi i più piccoli te li vendevano con 4 mega ok e ti dovevi arrangiare non girava quasi niente diciamo poi andavano 8 mega 16 mega 32 mega poi quelli ricchi avevano 64 mega però eravamo già passati ai mega prima eravamo i K ora siamo ai mega mille volte di più ok e questi oggetti riuscivano a funzionare con queste poche risorse peraltro erano anche carini come sistemi allora vi faccio vedere questo oggetto qua ok e allora ecco qui abbiamo la nostra straordinaria risoluzione e per esempio qui c'è un basic che si chiama chipmunk basic che è famoso perché è lo stesso da sempre cioè voi potete prendere un computer di 20 anni fa o uno di oggi questo linguaggio è sempre uguale a se stesso ok quindi potete usarlo come volete ed è carino che gira questa versione anche su questo su questa versione di Mac ok per cui se io lo faccio partire per esempio posso fare un'operazione come questa caricare un programma come si faceva praticamente su ammesso di beccare le i giusti caratteri perché non so dove sono dove sono finite le virgolette non si sa non le troverò mai vabbè ci lascio stare che non le trovo le virgolette lo faccio girare con un trucco da Macintosh che è quello di cliccare direttamente sul programma questo funziona eh visto funzionato allora perché il Mac era più evoluto non è che proprio lo dovevi fare per forza lo sapeva che quello era associato a quell'altro e lo fa partire ok però la cosa carina è che questo basic funziona come quelli primitivi no anche se sai dove sono le virgolette in questa tastiera cosa che io non so ok vabbè questo è un esempio per esempio di appunto di calcolo fatto fatto bene ma dentro questo oggetto ci girava una cosa fantastica che era matematica e matematica è un programma veramente avanzato cioè matematica nasce come sistema simbolico in cui si possono fare tante cose ammesso che te le fa vedere allora facciamo partire matematica da solo ecco qua ecco matematica è un oggetto fantastico in cui se uno scrive 1 più 1 anche qua a sapere dove è il più eccolo qua ti permette di fare calcoli fantastici ma ti permette di fare anche cose di questo tipo non è molto differente dal matematica che conoscete voi oggi certo che usare le tastiere senza sapere dove sono i cosi e il tosto e immediatamente vi permettere di rappresentare funzioni anche tridimensionali d'accordo cioè delle cose veramente estremamente avanzate ok il matematica che c'era lì non è molto differente dal matematica che abbiamo oggi in realtà questa è una versione di metà degli anni 2000 e qui dove la tastiera dovrebbe rispondere come si fa si possono fare oggetti di questo tipo ecco qua e disegnare quindi oggetti veramente complessi come per esempio come ho detto che cosa ho fatto qua che non gli è piaciuto gli ho dato ah plot si è vero devo fare plot 3D in diretta le cose ecco qua non è male questa cosina qua vero? considerate che sta girando con un programma che è matematica che è scritto per il 386 che gira su Windows 11 che è scritto invece per l'arm quello di Intel ok che gira in emulazione sull'M1 di Apple su un altro sistema operativo ecco cioè questo chi sa un po' di informatica questa cosa fa quasi paura diciamo perché avete visto con che velocità l'ha calcolato cioè qua siamo in emulazione a strati ci sono almeno tre processori che sono emulati uno sull'altro e due sistemi operativi ok che sono piuttosto impressionanti questo per dirvi che la potenza di calcolo che abbiamo oggi noi è veramente strabiliante ed è incredibile che non ci rendiamo conto forse di quanto sia strabiliante torniamo alla nostra presentazione allora all'epoca Steve Jobs che aveva litigato alla Apple l'avevano buttato fuori non so bene la storia se l'avevano buttato fuori se ne è andato lui penso l'avessero buttato fuori è andato fuori e ha detto io sti computer dell'Apple sono proprio primitivi vi faccio un computer serio e ha fatto Next che è questa scatola qua il cube Next che è un oggetto all'epoca era strabiliante un sacco di memoria velocissimo con matematica dentro gratis la matematica è una roba che costa cara ok ci sono due soli esempi di matematica gratis nel 1988 col computer Next che era veramente avanzatissimo per l'epoca e costava talmente tanto che non se l'è comprato nessuno ok e poi nel 2020 col Raspberry Pi il Raspberry Pi single board computer che è una cosina così ok a matematica gratuito se voi montate il sistema operativo della 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 fondazione del Raspberry ok e matematica è gratuito questi sono gli unici due casi nella storia in cui matematica si può acquisire gratuitamente per cui il vero motivo per cui la prima volta in vita mia ho comprato il Raspberry era perché c'era matematica gratuito capite e il Raspberry è un oggetto straordinario che vi faccio vedere ha delle capacità incredibili perché è un vero computer nascosto in una scheda e voi potete fare delle cose di questo tipo molto informaticamente perverse tipo queste allora prendere un oggetto come questo che è nient'altro che la nostra schedina del il Raspberry con una scatolina intorno per evitare che si rovina nella borsa lo collegate al vostro PC ma anche al vostro iPad e avete il Raspberry dentro l'iPad ok si può fare questa cosa funziona è una cosa stranissima potete vedere guarda lo faccio vedere guarda allora io attacco un solo cavo l'alimentazione viene presa direttamente dal computer ok ora questo ci mette un po' a partire perché ovviamente deve fare partire il suo sistema operativo che è Linux poi io esco da questo programma faccio partire un programma di accesso remoto eccolo qua che voi conoscete bene qualunque WNC viewer voilà vi piace questa cosa? questo è lo schermo del mio Raspberry collegato con un unico cavo USB-C che fa da alimentazione e da controllo e qui cosa potrei fare per esempio poiché sono particolarmente posso fare girare per esempio matematica ok cioè giusto per dirne una no perché perché negarsi questi piaceri diciamo quindi se volete potete fare girare matematica sull'iPad tramite un Raspberry collegato con l'USB-C questo non lo sa quasi nessuno sono disposto a dirvelo quasi gratuitamente così ok ecco questa è matematica vero 100% con tutte le funzioni matematica 11 ok cioè quindi il matematica vero potentissimo ovviamente poiché sta su un Raspberry ha il 20% di velocità rispetto a un PC vero che non è male il 20% di velocità rispetto a un PC considerato professionale a me sembra una cosa straordinaria considerato che la scheda Raspberry Raspberry vabbè ora non si trova perché è un po' shortage dovuto alla mancanza dei chip ma quando c'era costava 40 euro ok tutta quanta con la scatolina 50 euro e matematica è gratuito quindi ok se non dovete fare super calcolo mi pare che è un oggetto piuttosto interessante no ok quindi questa è una cosa bellissima e oggi l'informatica vi permette di fare cose di questo tipo ammazziamo il nostro Raspberry ecco qua perfetto ammazziamo il viewer quello si è spento sì bene fine ok quindi noi ora giriamo quei computer in tasca che non sono solo i cellulari ma con computer con cui si possono fare allora i nerd veri quelli proprio tosti quando vanno in aereo c'hanno l'iPad poi c'hanno questi oggetti qui e si continuano il lavoro sull'aereo di programmazione perché la scella di programmazione questo è Linux e quindi ti permette di fare lavori professionali se vuoi fare le cose c'hai tutte le librerie tutte le cose fantastico no ok andiamo avanti andiamo avanti che cosa viene ora fuori allora qui ho portato un piccolo confronto tra il Next PC questo super computer costava un sacco di soldi e il Raspberry Pi 2 che è una roba ormai vecchia di diversi anni ora siamo al Raspberry Pi 4 che è almeno quattro volte più veloce di questo guardate le cose allora quello è un Motorola 68.030 o 68.040 col processore col processore girava a 33 MHz il Raspberry Pi 2 gira a 900 MHz i nuovi Raspberry girano a un GHz e mezzo ok questo aveva solo un DSP un Digital Signal Process questa è una vera scheda grafica questo aveva fino a 128 MB di RAM figurati tu questo ha 1 GB e le nuove versioni arrivano a 8 GB di RAM ok questo aveva 660 MB di hard disk e questo se non gli metti almeno 8 GB non parte il sistema operativo ok questo è il minimo minimo per stare a partire il sistema operativo l'Ethernet era a 10 MB per l'epoca era fantastico questo era a 100 e il nuovo è invece sul Giga pure lui aveva la bellezza di 20 Mips 20 milioni di operazioni al secondo e ben 5,6 quasi 6 milioni di operazioni in virgola mobile al secondo questo oggetto ha 2000 Mips ok che è un giocattolo e ha 93 mega flop per core e dato che i nuovi hanno 4 core e vanno 4 volte più veloci fatevi i conti da soli per capire che cos'è questa cosa qui che noi consideriamo non professionale perché c'è il 10% di potenza di calcolo di qualunque altro PC che vi potete comprare ok questo costava 3000 dollari dell'epoca che sono più di 3000 dollari di oggi ok questo costa 40 dollari costava ok qui siamo gli anni 90 inizio e qua siamo nel 2015 cioè i cambiamenti sono stati stratosferici esattamente come il passare dalle trasparenze fatte a mano ok alle rappresentazioni in powerpoint in cui tu puoi uscire entrare uscire fare girare i sistemi operativi cioè cose che una volta sarebbero state considerate impossibili d'altronde i microprocessori hanno avuto questa crescita incredibile questo è il numero di transistor che sta fino al 2010 nei microprocessori che raddoppia sostanzialmente ogni due anni quindi ogni due anni noi raddoppiamo e se vedete questa cosa continua ancora perché ora non possono andare più veloci di quanto vanno perché sono problemi di dissipazione del calore però ci mettono più core prima due core poi quattro poi otto ma se ne hai meno di 12 non ci puoi nemmeno giocare voglio dire che vuoi fare almeno 12 core in un portatile ok e questo ti permette di fare cose di questo genere cioè di fare girare matematica ma stavolta matematica gira veramente serio perché in quei sistemi primitivi girava ma aveva problemi di memoria spesso si intoppava perché quei calcoli comunque ora invece no ora potete fare veramente cosa volete simulare su matematica volete simulare che ne so sintesi vocale e lo potete fare volete scrivervi un altro linguaggio e lo potete fare volete fare un po' di intelligenza artificiale e lo potete fare tanto le intelligenze artificiale che noi vediamo oggi per farle ci vuole un sacco di potenze di calcolo ma poi per farle girare basta un pc ve lo potete mettere dentro così quando chiedete a chat gpt fammi la foto di due che si baciano non ve la fa perché no quello non è è del i che fa questo non ve la fa perché gli hanno detto che non si fanno queste cose però se ve lo mettete sul vostro pc cacciate i filtri potete fare quello che volete questo vi da l'idea di quanto sono pericolosi questi oggetti no che sono veramente pericolosissimi va bene io direi che questa carrellata è arrivata alla fine per cui ho rimesso il nostro DOS da cui in fondo è partito tutto cioè il calcolo personale moderno parte con il DOS che ma perché poi questo DOS è stato così forte che ancora esiste il DOS andate dentro Windows 11 aprite la finestrella del terminale quello è il DOS ancora è il DOS sta là nascosto pronto a fare cose pericolosissime ma perché questo DOS ha avuto tutta questa fortuna perché c'era la gente geniale che scriveva questi programmi tipo ora era gente geniale voglio dire noi abbiamo il mito della gente geniale per esempio il DOS è stato scritto da Microsoft che prima scriveva il BASIC per i primi PC e guardate scrivere il BASIC per i primi PC facendo entrare tutto dentro 8K di ROM che era era un'impresa titanica perché 8K veramente poco poco ma quello era il massimo che si poteva mettere commercialmente all'epoca quindi tutto doveva entrare lì dentro il sistema operativo il linguaggio era tutto e ognuno aveva le sue idiosincrasie ogni perché tutti comprivano le differenti da di loro e loro di Microsoft sono stati bravissimi perché sono riusciti a soddisfare le idiosincrasie di tutti i clienti che ci avevano e a mettere i loro BASIC dappertutto e questo poi gli ha permesso di essere chiamati da IBM per presentare il loro sistema operativo che non avevano che hanno comprato da un'università all'ultimo secondo quindi hanno venduto una cosa che non avevano l'hanno comprata da un'università a pochi soldi peraltro e l'hanno rivenduta un po' trasformata e l'hanno chiamato un osso questo oggetto ora la cosa fantastica è che gli ingegneri di IBM questo lo sanno in pochi avevano visto subito che questo sistema era una mezza porcheria e non lo volevano ma chi è che era il padrone di Microsoft chi era? Cosa? Bill Bill Gates e che faceva la mamma di Bill Gates a quell'epoca? era nel consiglio di amministrazione di IBM ok? e quindi quando gli ingegneri capiscono senti ma questi cioè vabbè hanno fatto sta cosa ci hanno fatto uscire però ora basta facciamo le cose serie IBM a quell'epoca scriveva le basi del sistema OS2 che era un sistema operativo serio diciamo grafico avanzatissimo tutto e la mamma gli dice ma non fategli lavorare no? e lasciateli lavorare e lasciateli lavorare IBM ha firmato un contratto capestro in cui era obbligata ogni pc che vendeva a metterci i dischetti del DOS sopra e questo ha fatto sì che il DOS fosse l'unica cosa che faceva girare i pc e poiché all'inizio i programmi grafici erano pesanti e il DOS invece permetteva di far girare l'isical che cose anche più avanzate in maniera abbastanza efficiente risultato Microsoft si è preso tutto il campo dei sistemi operativi ora guardate Bill Gates era una persona geniale lui e i suoi collaboratori perché se no 8k di basic provateci voi a scriverli non li mettete dentro l'ottocampo erano bravissimi a fare certe cose ok ma a conquistare il mercato se non c'è la mamma nel CDA della Microsoft della IBM è difficile che ci riesci perché dice quello stava nel garage intanto il garage dove stava Stanford quello non lo so però da quelle parti stavano tutti quanti i collaboratori per esempio dell'Apple lavoravano all'HP mica lavoravano all'edificio del comune lavoravano all'HP erano ingegneri dell'HP ok era gente di un certo di un certo ma quello non si è laureato e non si è laureato ma se voi andate a vedere tutta quella gente che poi dall'università c'è andata erano il terzo studente classificato a Harvard il secondo studente classificato a Stanford con le borse di studio e tutto perché erano bravissimi questi la realtà è che non avevano bisogno di laurearsi intanto perché avevano le mamme nel posto giurale e poi perché erano veramente avanti rispetto al tempo e avevano a un certo punto molto spesso i loro stessi docenti gli hanno detto se devi fare una scommessa farla così e non colì ok e questo è uno scommesso hanno vinto non tutti non tutti quelli che hanno vinto ci vengono a raccontare che se hai un garage sei geniale lavori tanto diventerai come Bill Gates non è vero perché i garage arrende non sono buoni come quelli a Stanford le mamme in genere non stanno nel CDA della della IBM ok non ci stanno e poi probabilmente noi non siamo così forti da essere il terzo studente nella lista di Harvard ok quindi metti tutto insieme e probabilmente tutta sta cosa dei supergeni si ridimensiona un pochino diciamo diciamo ai ragazzi che devono lavorare che col lavoro si fanno tante cose ma che non è che si devono misurare con questi supergeni che ci sono stati raccontati allo stesso modo in cui i greci raccontavano i miti dei loro dei diciamo cioè in una maniera completamente falsa la realtà comunque in qualche libro c'è si sa si sanno le cose ma la realtà andrebbe veramente ridimensionata perché si può fare innovazione anche nel garage di Rende ma sapendo che non hai le stesse condizioni al contorno di Stanford almeno di quella Stanford perché oggi anche lì stanno smantellando tutto ormai quindi di quella Stanford insomma i mezzi sono quelli che sono noi viviamo in una nazione in cui il 60% delle operazioni innovative si fa con i soldi degli amici e della famiglia questo è ok va bene basta se no vado avanti con altri 6 ore grazie